Musica Un cordiale saluto, ben trovati da Tu per Tu, la trasmissione di Trentino TV realizzata in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con la consigliera Vanessa Masè di La Cilica. Allora, ben ritrovata consigliera, parliamo subito di argomenti all'ordine del giorno, in particolare parliamo di una question time che lei ha proposto in Consiglio Provinciale, question time che riguarda la SMA. Vediamo subito di che cosa si tratta. Grazie, sì, ho presentato questa question time in questa tornata del Consiglio Provinciale per sapere se vi sia l'intenzione di inserire anche il test sulla SMA all'interno dello screening neonatale che già viene seguito sui nuovi nati. Si tratta di un campione di sangue che viene prelevato dal tallone su cui vengono eseguite una serie di analisi per verificare se esistono delle malattie o una serie di patologie. E quindi la proposta sarebbe quella di inserire un ulteriore test all'interno di quelli che già vengono effettuati per rilevare eventualmente la presenza genetica dell'atrofia muscolare spinale che appunto insigla SMA. L'assessore alla salute ha detto che c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando in questo senso e l'auspicio è proprio quello di poter inserire questo test tra quelli dello screening neonatale che viene eseguito sui nuovi nati. Quindi credo che questo sia un messaggio importante e anche rassicurante per i genitori perché naturalmente anche in questo caso la diagnosi precoce permette di poter intervenire immediatamente e ridurre immensamente ovviamente le problematiche che quel bambino e quella famiglia potrebbero avere nel caso in cui il test risultasse positivo. Parliamo adesso invece di un ordine del giorno sempre da lei presentato al disegno di legge che è stato approvato dell'assessore Bisesti, disegno di legge sulla cultura. In particolare su ordine del giorno si occupa di musei. Esatto, riguarda due tipologie di musei. Uno sono i musei etnografici che c'è stata la volontà con questi disegni di legge che sono stati approvati di modifica della legge sulla cultura di valorizzare questo grandissimo patrimonio e preziosissimo che abbiamo sul territorio. Viviamo un momento storico in cui essere custodi della memoria tradizionale, popolare, materiale e immateriale è particolarmente significativo perché in termini generazionali se oggi noi non preserviamo e non proiettiamo al futuro questo patrimonio rischiamo di perderlo definitivamente. Quindi da un lato valorizzare le esperienze dei musei etnografici e inserendoli e valorizzando anche la rete che si sta costruendo intorno a questo oltre centinaio di realtà quindi è una realtà veramente importante sul territorio trentino e dall'altro far sì che anche i 19 musei della rete trentino Grande Guerra possano continuare all'interno della regia del museo storico della Grande Guerra di Rovereto, possano continuare anche a promozionare la loro attività perché personalmente avevo percepito questa cosa, terminato l'anniversario per il centenario della Grande Guerra e quindi il grande lavoro che è stato fatto anche da questi musei dislocati sul territorio se poi cala la volontà e l'interesse a invece valorizzare le attività che all'interno di questi musei vengono proposti e tutta la raccolta anche di documentazione, di materiali che in SVE non possiamo pensare di aspettare il prossimo anniversario dobbiamo continuare a valorizzare queste strutture che abbiamo sul territorio e quindi l'ordine del giorno andava in questo senso e sono molto lieta di poter dire che è stato approvato all'unanimità del Consiglio Abbiamo poco tempo a disposizione ma un accenno alla manovra di bilancio che è stata presentata in questi giorni dal Presidente Fugatti parliamo del bilancio della provincia che andrà in discussione in dicembre in Consiglio Provinciale Sì, abbiamo presentato, avviato in prima commissione di cui sono Presidente l'illustrazione della manovra finanziaria certo è una manovra prudente che guarda al 2023 da un l'altro con grande cautela ma dall'altro anche in uno scenario non estremamente pessimistico credo che questo sia un segnale molto importante da dare al nostro tessuto economico e alle nostre famiglie l'inverno che ci aspetta è vero, non è semplice ma in questo momento i dati ci dicono anche che comunque la struttura economica sta tenendo quindi quanto messo in campo a disposizione con la manovra che riguarda in particolare il 2023 anche se è un bilancio triennale va a concentrare tutta una serie di iniziative per continuare a sostenere il mondo delle famiglie e il mondo delle imprese con poi anche una particolare attenzione insomma visto che è il mio particolare interesse anche sulla famiglia e sul sviluppo della natalità, di sostegno alla natalità e credo che questo insomma dia il respiro anche a questa manovra per gettare le basi per poi un ritorno dal punto di vista demografico che potremo avere nei prossimi anni e che anche per la nostra provincia di Trento è estremamente importante Grazie alla consigliera Vanessa Masè della Civica è tutto per questa puntata di Attu Partou, vi do appuntamento ad una prossima puntata, arrivederci Grazie a tutti